Noi vorremmo che questa strada che è dissestata venisse sistemata, che fosse fatta da una pista ciclabile, perché il flusso dei genitori su bambini che portano i bambini a scuola, passali qua, si può fare, si, no, rientrerà nel piano di ciclibilità saronnese, cioè questo tipo, noi mettiamo sul piatto tutte le diligenze del quartiere, dopodiché, fatta la domanda, gli arriverà la risposta, questo è il... Non è che tutto dipende dal PGT, esatto, questo è il percorso, quindi, quindi, voglio dire, quello che stiamo facendo nei quartieri è questo percorso qua, poi l'impegno che è stato dato, anche Beppe ha fatto un'interazione pubblica alla stampa, dicendo che l'amministrazione sostiene questo progetto, vuol dire che è interessata a ricevere le informazioni che ci sono, nel momento in cui noi consegneremo, diciamo, i nostri progetti, il nostro elenco di proprietà del quartiere, a quel punto, come cittadini, ci sentiremo anche, come dire, in diritto di avere delle risposte, no, cioè, vi abbiamo fatto delle domande, qual è la vostra risposta, e questo è il percorso che stiamo facendo anche negli altri quartieri. In Castina Ferraro, io e i 5 incontri abbiamo fatto esattamente questa cosa, cioè, i post-it che avete visto prima, che riguardano problemi di vario tipo, la camminata del quartiere per andare a vedere, proprio... Io credo che una grande parte...